Buon 8 marzo e buona festa della donna. Un grazie di cuore a tutte le donne della Polizia di Stato che quotidianamente si impegnano in servizio per garantire la nostra sicurezza. E' quanto si legge sulla pagina Facebook della Questura di Caltanissetta. Il post prosegue così. La nostra amministrazione, nel 1959, fu protagonista della svolta epocale che stabilì per la prima volta l'ingresso delle donne in una forza di polizia italiana. Con la legge 1083 del 7 dicembre venne infatti istituito il corpo di polizia femminile che prevedeva le figure delle ispettrici e delle assistenti di polizia. La riforma del 1981 unificò il corpo delle guardie di pubblica sicurezza e la polizia femminile nella moderna polizia di Stato, prevedendo parità di genere e di carriera. Oggi, dopo oltre 60 anni, le poliziotte italiane sono circa 16.000 e ricoprono tutti i ruoli, dalla gente al dirigente generale e sono impegnate in ogni settore e specialità della nostra istituzione.